Buonasera a tutti, sono Luca Giannattazzo della Luca dell'estate di Punta Cana Village e oggi le vamo a mostrare una molto linda via con doble solare alla venta in Punta Cana. Come potete vedere, abbiamo una entrata molto importante, con una cuarta molto alta, molto linda e una entrata con doble altura entrando, con la rappresentanza con la sua lampara colgante e il tutto, molto molto linda. Un'ampia sala comedore e zona living, completamente amovillata in casa dei tagli, cortinata anche di prima, molto luminosa e molto fresca. Faccio techo, anche in sciroppo, su ojo del buey e su lampara. Lo potete vedere, anche qui abbiamo un medio bagno di visita, molto lindo, molto bene arreglato con diversi detalli. Poi passiamo alla zona externa, dove c'è un jardin con su piscina privata, che va hacia il altro solare che vanno a vedere dopo. Questa casa ha un doble solare con un total di 1.000 m2. E qui, in questa sala che è anche climatizzata, si accede alla cucina. Una cucina molto ampia, con molta luminosità in quanto ha tutte le sue ventanze. Come potete vedere, un topo in granito, cucina moderna, materiale indiffico importato. Excellente elettrodomestico, molto valioso, e anche un appanico detenso, il falso detenso in giro arriva. Tutto molto bene organizzato e molto lindo. Tambien abbiamo una dispensa, che è sempre comoda, a nemmeno del tamaño della cucina, una dispensa molto grande, che è utile. Un'area di lavato con lavadora seccatora e un sumidero per lavare e tutto lo demás, con un'abitazione di servizio con su bagno, anche con un'aria accondizionato e un appanico. Qui abbiamo anche la salita in giro, dove il servizio può entrare e salire senza entrare la porta principale. Ora si ha la parte sempre dell'estudio, della sala. In concreto hai un studio di televisione o anche potrebbe essere un'altra abitazione, in quanto si può utilizzare il medio barrio da fuori, però è un studio molto ampio, climatizzato ugualmente per vedere la televisione, con su neverita e tutto lo demás. Igualmente molto luminoso, molto fresco, con tutte le sue cortine. E da qui si accende alla parte di fuori, anche della sala, ma anche del studio, a questa meraviglia che è la parte di fuori di questa casa. Con un gazebo, tutto in madera, molto bello, con il suo barbecue, il suo sofà, tutto per disfrutare del giorno e della noce. E che da questa tremenda vista del suo solare complementare, di più di 500 m2, con questo arbre meraviglioso. Claramente questa amplitud che gli da questo solare è la cosa più linda di questa casa, perché gli da un desahogo enorme. sono due titoli separati, quindi in caso di poter fare un'altra construzione al lato, poter fare un'altra dependenza, poter fare un'altra abitazione, poter fare un'altra abitazione, lo che vuole. Ora, a qui, dove sono le 3 abitazioni, con una comoda e ampia scala in marmo, si accende al nivel superior, sempre molto luminosa, questa casa tiene molta ventilazione e molti cristalli, che le dà molta luce naturale, molto belle, le perdono. E qui ascoltiamo alla prima abitazione, l'abitazione secundaria, che come potete vedere è molto ampia, cavano due cava qui dentro, dopo l'altura, l'aereo accondizionato, sempre luminosa e fresca, con il suo working closet e il suo baino. Un baino moderno, con una ceramica molto particolare, anche le porte sono tutte di un estiro moderno, questo gris che gli dà questo toque di modernità, la duccia e tutto ciò di un'altra abitazione, che è l'abitazione principale, come potete vedere è molto ampia anche questa, con doppia altura, molto luminosa, con un buon ampio walk in closet, bene accondizionato, un ampio walk in closet come potete vedere, e un baino separato, con male, con una mano sempre moderno, con una mano a mano, sempre moderno, con poi su separazione di risidone e una ampia dura. Ora facciamo la tercera abitazione, un'abitazione secondaria, sempre molto ampia con l'aereo condizionato, ammoglata, sul walk-in closet e sul bagno. Ora facciamo la tercera abitazione, un'abitazione secondaria, un'abitazione secondaria, un'abitazione secondaria, un'abitazione secondaria, che è ammoglata e comoda per vivere con il suo studio e la parte afuera, una meraviglia il doble patio, ed ed 3 grandi abitazioni, anche del studio di abatto, del garzett e tutto ciò. Un totale di 1000 m2 di solare in una casa di construzione con 400 m2 con piscina, al excelente prezio che potete vedere in questo video. Ci speriamo per vedere, la calle è una calle senza salita, cerrada, in Punta Cana Village, molto tranquilla, così che davvero è una super opportunità. Salute!